L'ultimo incidente in cui sono rimasti coinvolti un padre con due figli è accaduto ieri sera a Policiano. Vuoi le distrazioni, vuoi i numerosi centri abitati che insistono sulla 71, vuoi le code generate dagli autobus che costringono a continue frenate, vuoi le irregolarità. La strada, inserita per altro da col diretti anche tra le vie con il maggior numero di animali selvatici in transito, continua ad essere un problema rilevante. La strada di competenza regionale per delega provinciale continua a far registrare numerosi incidenti. Di sicuro non è possibile trovare un'alternativa ai bus che spesso in coppia, seppur di gestori diversi, provocano file e qualche volta tamponamenti per le velocità che variano all'improvviso o per distrazioni così come i mezzi che portano via i rifiuti. Non resta allora che la prevenzione attraverso pattuglie e controlli e un po' di attenzione in più quando ci si mette al volante, ma di sicuro rimane troppo poco per risolvere un problema annoso.